Per me è un onore ricevere questo premio, un premio campione per il giornalismo anche perché mette in evidenza il rapporto strettissimo che c'è fra la comunicazione pubblica e il giornalismo. La nostra professione può fare tanto per la comunicazione pubblica perché gli dà quei requisiti di professionalità, di dentologia che servono a migliorare la qualità del rapporto con il cittadino e anche dargli un ruolo fondamentale nel giudizio sui servizi pubblici, creando un nuovo patto fra amministrazione e cittadini italiani. Grazie